The Showtime La moda Facebook è un sistema di comunicazione eccezionale che noi dobbiamo utilizzarlo al meglio anche nella moda può cambiare molto perché tutto il mondo è un sistema di comunicazione ci possiamo parlare anche per la moda cambierà molto i tempi duri non dovrebbero mai venire visto che però sono arrivati deve essere uno stimolo per uscirne quindi tutte le collezioni, io credo che la nostra collezione quest'anno ha ancora più un'attenzione a voler fare campi che stimolino l'acquisto quindi sono ancora più particolari, più dettagliati e secondo me più medili fondamentale il prezzo non è che si ottiene per caso si ottiene cercando di capire dei sistemi di arrivare al prezzo che sono a spesso lavorare con certi tipi di materiali che sembrano importantissimi non costino in una maniera esagerata quindi poi utilizzarli bene anche stilisticamente dei materiali che non siano sempre delle cose intoccabili ma oggi si può e si deve secondo me si deve ci possono essere eccessi ma bisogna anche andare vicino a questa consumatrice che ha voglia di divertirsi, a volte anche di comprare una cosa non è che per forza deve essere una... sono le donne del mondo cioè tutte quelle che dobbiamo trovare una soluzione di vestire molto più persone che vorrebbero comprare ma per necessità, per problemi vari non possono e dobbiamo trovare una soluzione di vestire molto più di vestire molto più Grazie a tutti.